Sono passati due anni, sono passati due anni, due anni sono passati, due anni, allora io mi levo queste, io mi levo queste, sono passati sei mesi, sei mesi da quando ho detto che avrei fatto un altro video di questo tipo, sono passati due anni da quando la Lazio ha preso Kaisedo. Era un 28 luglio qualunque, tra l'altro compleanno di mia sorella e la Lazio acquistava Kaisedo, il titolo del mio video era Kaisedo è della Lazio, due punti, è una pippa. Allora, allora, visto che queste reaction vanno per la meglio e vi piacciono tanto, io vi dico, tra sette giorni esce un'altra reaction, la reaction al mio primo video, Roma Pescara, questo. Se questo video dovesse arrivare a 10.000 like prima di sette giorni vi faccio uscire Roma Pescara prima, questo vuol dire che dopo Roma Pescara arriva scicca, io bevo per dimenticare. Io adesso mi metto le cuffie, nella speranza che io non dica troppe cazzate, perché non se ne può più, tra l'altro perché è così, oh, 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 sono pronto. Io non mi toglierò le cuffie per nessuna ragione al mondo, perché io mi fido di me, io questo video ancora non l'ho visto, cioè l'ho fatto, ma non mi ricordo che cosa ho detto, ho paura. Pronti, partenza, via. 5.000 mi piace per un nuovo video su una pippa, ecco, cominciamo alla grande, ha fatto 5.293 mi piace, probabilmente dopo avremo comprato chic. Un nuovo video, allora, calmo Simone, calmo. Vedete che è così perché sono romanista, ma in realtà non è così, cioè non ho problemi ad ammettere quando una squadra di vale fa un acquisto buono. Però ragazzi, per me sto Kaesedo è proprio una pippa, una pippa, una pippa. Lo reputavo uno dei tre attaccanti più scarsi al mondo, uno dei tre centravanti più scarsi al mondo. Padula, che comunque è un buon giocatore. La Padula, ho fatto l'esempio con la Padula. Ho fatto l'esempio con la Padula. Questo giocatore, l'ultima stagione, è stato capace di segnare... Ho fatto l'esempio con la Padula. Ho fatto l'esempio con la Padula. E sono molte meno, è meno della metà dei cartellini gialli. Questo da centravanti ha preso 5 cartellini gialli e 2 gol l'ha fatto. Una cosa clamorosa. Confused stonks. 9 tiri, un centravanti, ragazzi. Un centravanti che non tira mai. Non tira mai, non tira mai, ragazzi. Non tira mai. Non è l'apo. 5 volte come il peggioro della partita. Una cosa clamorosa. Una cosa clamorosa. A me mi ricorda in tutto e per tutto il peggior Balotelli. Addirittura vado a vedere i dati. Questo giocatore, ragazzi, ha perso 42 contrasti su 58. Una cosa veramente inaudita. Ma perché parla? Ma perché parla? Ma cosa? Cosa? Dei 56 su... Cosa? Noi l'abbiamo trasformato in un Power Ranger. Noi l'abbiamo trasformato in un Power Ranger, cazzo, questo. Sono rimasto sconcerto, sono rimasto sconvolto. Ho detto, no, dai. La Lazio non può, fra l'altro, pagandolo 9 milioni. E ricordiamo che l'acquisto più costoso della Lazio si è girato sui 12-13 milioni della Lazio. Allora, poi, attenzione. Può essere che questo è un fenomeno. Cioè, uno youtuber che parla di calcio deve esprimersi. E deve, appunto, rischiare. Sì, le mani avanti. Le sacre mani avanti. Le sacre mani avanti. Però, ragazzi, io devo parlare di quello che è stato effettivamente prima da adesso. E per me, ad oggi, 9 milioni non li vale. Li potrà valere, ok? Ma ritorno... Li vale? Avete ragionissima. Però, quando ho fatto quel video, 9 milioni, non li valeva, non li valeva... È vero, però, non li valeva 9 milioni, nemmeno 3, nemmeno 2, nemmeno 1, nemmeno... Insomma, per studiare a Giorgio, che c'era un bene pure io, per butto in campo, vedrai che qualcosa di meglio faccio. Fatemelo sapere... Fatemelo sapere qui sotto che ne pensate, ragazzi. Secondo me la Lazio con Kayset non vincerà mai niente. Cioè, come fa? Con imparzialità, però, ragazzi, per me questo è veramente scarso. Non lo so. Ditevi voi che sottolineate questo giallo, ragazzi, per la Gugoi ho 5 cartellini gialli. Per me, ragazzi, è qualcosa che mi rimane qua. Fatemi sapere. Fine. Allora. Allora. No, comunque, ragazzi, allora, adesso facciamo un attimo, sinceramente. Io credo che sulla carta il giocatore fosse veramente scarso. E complimenti a Tare che ha avuto un'intuizione assurda. Però, in questi ultimi giorni post Supercoppa mi avete invaso. Ma sapete che vuol dire invaso? Mi avete invaso ovunque di commenti sotto questo video. Praticamente è tornato riattivo. Tra un po' va in tendenza dopo due anni. E quindi, insomma, era giusto e doveroso che io lo facessi. Perché quando è giusto, quando io prendo cose, quando dico cose, poi succede un aggiusto che, insomma, io ve lo faccio notare. Quando invece succede il contrario, è giusto anche il contrario. Quindi, era giusto che io facessi questo video. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Vi ricordo, ragazzi, tra sette giorni circa uscirà un'altra reaction. Quella del mio primo video. Però, qualora arrivassero 10.000 like prima di quel... Che è un traguardo pazzesco, pazzesco, assurdo. Prima di quel video, io, ragazzi, vi ricordo che uscirà appunto. Ma pure se hai sui posti tipo tra dieci minuti, siamo arrivati a 10.000. Io, comunque, subito vi posto quel video. Insomma, torno a casa il 24 dicembre. Saluto vizia. Ciao, sia. È stato un piacere ai ragazzi, scartatari da soli che dovranno fare il video del mio primo video. Ruma Vesca. Beh, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto. Grazie per aver visto questo video. Buonasera all'allene, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.